Spesso molte persone mi scrivono chiedendomi come fanno a sconfiggere la loro pigrizia. In realtà la pigrizia non esiste, la pigrizia è semplicemente mancanza di motivazione. Prendere una decisione per noi è molto piacevole, ci sembra quasi di aver iniziato ad agire. Però è vero una cosa, noi siamo portati a risparmiare energia e in realtà la strategia è molto giusta. Purtroppo però una decisione da sola non farà differenza. Lo dimostrano le tante decisioni che prendiamo per l'anno nuovo, che poi non si trasformano in realtà. Abbiamo una energia finita e come energia possiamo pensare non solo alle energie fisiche, ma anche a quelle mentali, emozionali oppure alle risorse che noi abbiamo. Quando un aereo di linea si deve confrontare con fortissimi venti, i piloti devono spingere molto di più con i motori. Nella nostra mente quando abbiamo preso una decisione abbiamo già fatto il cambiamento. Essere ambiziosi sembra pericoloso, ma in realtà è quello che ci salva. In questo video voglio sponsorizzare una persona importante, una persona che si occupa di abitudini mentali, quindi di coaching, riguardante la risoluzione dei problemi derivanti da abitudini quotidiane sbagliate. Questa persona è Lorenzo Paoli. Lorenzo Paoli, tra parentesi, Lorenzo ti ringrazio per i tuoi discorsi, per avermi dato la possibilità di inserire i tuoi discorsi nei miei video, quindi per cui un grazie. Lorenzo Paoli è coach specializzato in abitudini eccellenti a livello mentale, emozionale e comportamentale. Dirige Novaxia, azienda di coaching e formazione che lavora con aziende di media e grandi dimissioni, tra cui Footlooker, Dell, Tupperware, Micron, Molteni Farmaceutici e molti altri. Inoltre ha Keynote speaker internazionale ed ha pubblicato quattro libri tra cui il best seller il coaching per te e il coaching per la tua startup. Editi da Vallardi. In descrizione inserisco i suoi link relativi al suo canale e relativi ai suoi siti, che vi invito ad andare a visitare, a guardare, perché davvero credo che siano molto utili per quanto riguarda lo studio delle nostre, delle proprie abitudini mentali, perché spesso si hanno abitudini che impediscono la realizzazione, non direttamente, magari anche indirettamente, ma indirettamente impediscono la realizzazione dei nostri obiettivi, perché spesso non ci si rende conto di avere abitudini sbagliate. Per cui veramente credo che i suoi discorsi siano molto utili per ciascuno di noi. Questo era il video di sponsorizzazione, Lorenzo ti ringrazio nuovamente e spero che andrete a guardare i suoi video e andrete a visitare i suoi siti. Grazie a tutti.